Nella mia vita, anche per il mio modo di giocare, per il mio modo anche di essere, anzi di non essere personaggio, ne ho passati sicuramente molti di questi momenti. Sicuramente anche per il fatto di essere molto introverso è difficile che io comunichi con la gente e mi faccia o apprezzare o disistimare, quindi sono tante le cose. L'unica cosa che paga nella vita secondo me è il lavoro, il lavoro con umiltà, con sangue, con dolore, ma poi alla fine viene sempre fuori, uno può resistere, far forza su se stesso. Certo, probabilmente hanno maggiore facilità quelli che riescono a sorridere un po' tutti, ad accettare un po' tutti, magari gli altri a cui riesce difficile questo, riesce più facile arrivare immediatamente alla verità, che magari dà fastidio e fra intesa, è più difficile.